Buone vibrazioni a tutti. Oggi voglio parlarvi del lavaggio vibrazionale. È una tecnica di trattamento sonoro vibrazionale che abbiamo ideato Martina e Dio per dare un valore aggiunto ai già conosciuti bagni di suono che spopolano negli ultimi tempi. Martina e Dio abbiamo operato per molti anni con i bagni sonori e poi abbiamo sentito l'esigenza di affinare questo già potente metodo unendo le recenti ricerche e scoperte scientifiche sia della fisica quantistica che dell'epigenetica. Nel nostro lavaggio vibrazionale si agisce sia sul corpo fisico che sui corpi sottili ed utilizziamo vari strumenti intonati naturalmente a 432 hertz come l'ang drum, i gong, i flauti nativi americani, i tamburi sciamanici, le ciotole armoniche di Albert Rabestai e le antiche campane tibetane, tutto suonato dal vivo ed improvvisato in estemporanea. La piacevolezza e la funzionalità delle esecuzioni è ottenuta anche grazie alle nostre competenze come musicisti e professionisti con formazione al conservatorio, unitamente al nostro lavoro di naturopati. Questi meravigliosi strumenti hanno il potere di riaccordare i centri di energia del corpo ma lo strumento più importante resta comunque la voce umana che viene espressa con tecniche di canto armonico e di vocali sciamaniche utilizzando l'intenzione degli operatori di attivare l'autoguarigione nei soggetti che vivono tale esperienza trasmutativa. Martina ed io ci prepariamo al lavaggio vibrazionale mediante una tecnica di autoipnosi che ci porta ad usare maggiormente le onde cerebrali alfa e teta con l'intenzione di portarle a vibrare nell'ordine degli 8 hertz che è per l'appunto il punto d'incrocio di queste due onde cerebrali. Questo crea un balance, un bilanciamento armonico dei nostri emisferi cerebrali e ci rende strumenti in grado di captare i campi coscienti o la coscienza collettiva del gruppo e di interpretarli ed eseguirli in frequenze sonore, in melodie ed armonie create, o meglio co-create, grazie alla somma di questi campi coscienti dei partecipanti al lavaggio vibrazionale. Nel trattamento si è coadiuvati in base alle esigenze dall'uso di oli essenziali, diapason, cromoterapia e cristalloterapia, tutto per orientarsi ad un corretto ripristino dell'equilibrio energetico. Siamo ormai a conoscenza avvallati da innumerevoli studi scientifici che la musica agisce sulle emozioni profonde ed in particolare tra il piano fisico ed il mondo spirituale, tra energie visibili ed invisibili. Con il lavaggio vibrazionale iniziamo un viaggio meditativo di autoguarigione che attraverso le sonorità degli antichi strumenti che evocano frequenze ancestrali, dona armonia e benessere. Le frequenze che utilizziamo dal vivo producono straordinari effetti terapeutici nel corpo e nell'anima. Questa tecnica favorisce sblocchi emotivi, armonizza il corpo fisico e mentale, crea rilassamento da tensioni, aumento delle capacità creative ed usando lo stesso linguaggio delle nostre cellule produce anche un sensibile miglioramento della risposta del nostro sistema immunitario. Buone vibrazioni a tutti!